Attimi di paura sulla statale Foggia Manfredonia, dove questa mattina un commando armato ha assaltato un furgone che trasportava sigarette. L'episodio è accaduto poco prima delle 9 nei pressi dell'aeroporto militare di Amendola. Il mezzo che trasportava tabacchi è stato speronato e costretto ad arrestare la sua corsa da un gruppo di banditi travisati ed armati a bordo di due auto di grossa cilindrata. Stando alla ricostruzione dell'accaduto, un primo veicolo avrebbe sbarrato la strada al mezzo della vigilanza che precediva il tir carico di sigarette. La guardia giurata sarebbe stata disarmata, mentre l'autista del furgone costretto a scendere dal mezzo. I malviventi avrebbero anche esploso un colpo di arma da fuoco a scopo intimidatorio. Una volta aperto il vano posteriore del furgone, i rapinatori sono riusciti a portare via solo alcuni degli scatoloni presenti sul mezzo, per un valore ancora da quantificare prima di darsi alla fuga in direzione Manfredonia. I carabinieri intervenuti sul posto hanno ascoltato il resoconto delle due vittime prima di avviare le indagini sull'accaduto, in stato di sciocco l'autista del furgone.